Quali sono gli ambiti di interesse all'interno della ricerca qui alla Sapienza? Io da diversi anni mi sto occupando, oltre che di geometria descrittiva, di ridevo digitale integrato, studiando le tecniche di scansione laser e di fotogrammetria digitale. Nelle ultime anni mi sono dedicato molto a valutare e verificare le possibilità di interazione e integrazione dei dati digitali provenienti da queste nuove metodologie di indagine.